euro atria vi presenta lo stivale cofra modello galaxy questo stivale è uno stivale in poliuretano colorazione bianca vediamo la calzata 12 possiamo averlo in s5 in s4 e in versione anche senza puntale in s5 con puntale e lamina in s4 solo con il puntale oppure senza né puntale e nel lamina il puntale di questo stivale che adesso abbiamo un s4 qui abbiamo il puntale in acciaio non abbiamo la lamina abbiamo la fodera interna in poliestere anti abrasione un prodotto molto molto flessibile ecco qua dove viene usato questo stivale viene usato nel settore alimentare in prevalenza ha un battistrada resistente fino a meno 25 gradi abbiamo la possibilità di inserire un calzare interno per l'inverno diciamo che questo stivale già certificato ci sarebbe per il freddo per maggiori informazioni di questo prodotto consultare il nostro sito euro atria.com per l'inverno diciamo